Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto al titolo andremo a vedere cosa hanno aggiunto questo giovedì Per quanto riguarda i glitch non funzionanti e patchati, aggiornerò i video mano a mano che vedo che sono stati patchati Quindi nel commento bloccato in alto Comunque ragazzi visto che hanno chiuso le scuole per il coronavirus fino al 15 marzo i video ve li porterò di mattina fatemi sapere se vi può piacere l'idea Quindi queste qua sono tutte le cose che hanno messo questo giovedì La nuova moto, insomma il nuovo quad, quello che è la Strider Abbiamo soldi doppi sulle modalità avversarie appunto la modalità competizione del bunker Soprattutto ragazzi le vendite del bunker hanno i soldi doppi quindi approfittatene Questi qua sono tutti quanti gli sconti disponibili Il più importante ragazzi è quello sul centro operativo mobile quindi se lo dovete comprare fatelo ora Soprattutto nel deposito veicoli per fare i glitch Per quanto riguarda la nuova moto che hanno aggiunto ragazzi non è nulla di che onestamente È originale per carità però insomma in ambito di velocità non è granché stabilità Vabbè ci sta modifiche ne ha pochissime Queste qui sono tutte quante le modifiche che ha praticamente cambia solo la livrea Neanche le ruote potete modificare ovviamente se non la moddate Per quanto riguarda il veicolo al casino abbiamo Limorgon quindi potrete andare a provare a vincerla Mettete su Instagram se la vincete taggatemi e vi riposto Vi ricordo che se vi servono aggiunte di soldi o account moddati contattatemi in chat privata Nei profili in descrizione ho solo quelli non ne ho altri Per quanto riguarda le modalità competizione abbiamo detto che ci sono quelle con soldi ad rp doppi Sul bunker e sulla base dei missili mi sembra si chiami e roba del genere Comunque vi consiglio di fare quelle del bunker Perché questa settimana è interamente dedicata al bunker a quanto pare Più tardi o domani vi porterò un video su come fare soldi senza glitch Come vedete io ho metà della merce e la riuscirò a vendere a 800.000 dollari Avendone praticamente meno della metà Quindi mi raccomando approfittatene Spero che questo video velocissimo vi sia stato utile con tutte quante le news Fatemi sapere quando vorreste vedere i video durante questi 15 giorni Che le scuole sono chiuse ed è tutto fermo E noi ci vediamo al prossimo video